al servizio all'esercizio da Blanco di Eresueno serve Coistra bravo, bravo la tiene Gasparini, Franco bravo Coistra perché il momento era difficile la palla spottava arrivava una, era anche bassa gli arrivava anche un po' da dietro, è riuscito a chiuderla anche quasi al centro del campo bravo Coistra cambiano le file del Verona in campo l'altro australiano del roster, Adam White classe 89 al posto di Mitia Gasparini numero 6 è capitano di questa formazione mentre è inquadrato è Raider Ieresuelo, Cubano Mancino numero 14 palleggiatore dell'Expiva nel diritto Monfetta vai Ieresuelo batte out Straut se possiamo usare questa terminologia ho visto che ha consigliato il suo palleggiatore di forzare la battuta ha forzata troppo allora è andata male ed è l'altro palleggiatore ad andare a servizio Manuel Coscione riceve Romiti Ieresuelo serve Bossi dal centro la difende pesaresi Coscione verso Sander pallone giù punto di Taylor Sander che rivediamo nel replay Ieresuelo ha servito efficacemente Bossi ha difeso bene Verona Sander non se la fa sfuggire trova un varco e mette a segno il ventiquattresimo punto quindi come il primo set si va ai vantaggi Franco e questo è un punto pesantissimo chiaramente bisognava cercare di chiudere con il primo tempo invece è stato difeso dal Verona che chiaramente poi ha fatto sfogare la sua bocca di fuoco Sander che ha colpito e quindi ventiquattro pari vediamo adesso i Molfettesi come controbatteranno con la ricezione e con il proprio attacco ritornano in campo allora le due squadre con il vincito di Pito che si sofferma a parlare con il libero Romiti Piscopo in città ai suoi una furia Piscopo anche in panchina con il numero due che vedete inquadrato Manuel Coscione ventiquattro pari va il paleggiatore al servizio ricevono da Blanco Ieresuelo ancora verso Bossi pallone out punto per Verona che ribalta praticamente il punteggio di qualche minuto fa andando a un punto di vantaggio 25-24 Peccato il primo tempo era perfetto l'ha girato troppo verso sinistra Elia Bossi ancora Coscione al servizio ricevono da Blanco Ieresuelo serve lo spagnolo muro del numero 17 Simone Anzani muro che vale il match a favore della Calzedonia Verona muro vincente di Simone Anzani 26-24 il punteggio del terzo set Calzedonia Verona batte a favore della Calzedonia